RUNA URUTS Le Rune sono 24 e vengono suddivise in tre gruppi composti da otto Rune. Questi simboli sacri non sono solo un mezzo di divinazione, ma una porta d'accesso al mondo dello spirito e rappresentano un potente mezzo per manifestare i propri intenti e per proteggersi dall'avversità. URUTS è l'urno, il bue, la forza. Questa Runa rappresenta il bue. L'urno è l'aspetto selvaggio non addomesticato, le energie potenti del subconscio. La forma di questa Runa rappresenta l'antico bovino selvaggio intento ad attaccare le corna verso il basso. Utilizzare la Runa URUTS aiuta a Mantenere la salute fisica e spirituale, Attrarre a noi eventi favorevoli, Riuscire a riconoscere che ogni cosa non capita mai per il caso e che c'è sempre un disegno dell'universo dietro. Protegge dalla pubertà materiale e spirituale, Aiuta a combattere l'anemia. La pietra connessa alla Runa URUTS è l'occhio di Tidre. L'URO, l'antico bovino selvaggio, è fiero e ha le grandi corna. È una bestia selvaggia che con le corna combatte. Il grande guardiano delle lande è una creatura meravigliosa e coraggiosa. Se sei interessato ad intraprendere un vero e proprio percorso sciamanico, vi consigliamo di visitare il nostro sito internet www.josoestavros.it 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 Grazie a tutti